Depositi di rifiuti speciali e pericolosi a ridosso del Parco Nazionale del Vesuvio sono stati scoperti dai carabinieri tra Tersigno e Ottaviano nel Napoletano durante i controlli per la tutela dell'ambiente. Quattro persone sono state denunciate dai militari, nei depositi sono stati trovati veicoli fuori uso, parti di carrozzerie, oli esausti e svariate, centinaia di gomme usurate, trovati anche sacchetti contenenti scarti di lavorazione tessili stoccati in un giardino, verosimilmente in attesa di smaltimento irregolare. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri di Torre Annunziata con l'ausilio di un elicottero. Al Tersigno sono stati denunciati un uomo di 56 anni, titolare di un'officina che gestiva rifiuti speciali pericolosi senza alcuna autorizzazione, due giardinieri di 84 e 28 anni trovati in possesso di 112 grossi sacchi contenenti 4.000 kg di scarti di lavorazione tessile provenienti da attività sartoriali della zona e il gestore di un'azienda di 38 anni sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti tessili.